Le botteghe, il movimento del commercio ecco e solidale, dovrebbe poter diventare ancora di più, perché infatti lo è, non è che vi sto dicendo cose nuove, no? Dico solo, rafforziamo questo impegno. Un luogo è anche un soggetto visibile, accessibile, di immersione della coscienza. Io credo che quando c'è coscienza tu vedi la realtà, vedi i valori, vedi quello che è accettabile e quello che non è inaccettabile. E' la coscienza che ci fa vedere l'alternativa, una società diversa, un comportamento diverso. Quando siamo senza coscienza ci troviamo a dire, sì sì, bello, però è impossibile. Sapete quell'espressione di scetticismo che ci viene a tutti sulle labbra, anche a noi, quando diciamo, caspita, però le difficoltà sono tali, di tempo, di energie, di scordinamento, quante difficoltà, e diciamo, sì sì, ma non è possibile. Attenzione, non è un calcolo realistico delle energie, vuol dire che la coscienza si sta spegnendo.